Musica Benvenuti in studio con l'informazione di TRC Notizie e la cronaca giudiziaria in apertura udienza preliminare questa mattina per il 17enne di Canicattì in carcere dallo scorso mese di luglio per omicidio il minore accusato di aver ucciso un giovane di 24 anni sarà processato con il rito abbreviato è stato ammesso l'arrito abbreviato il minore di Canicattì accusato dell'omicidio di Calogero Giardine il canicattinese di 24 anni ucciso lo scorso mese di luglio in un tragico sabato sera il procedimento speciale consente la riduzione di un terzo della pena a chiedere il giudizio abbreviato è stato l'avvocato della difesa Diego Giarratana questa mattina all'udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale dei Minori di Palermo Antonina Pardo e al pubblico Ministero Paoletta Caltabellotta il processo minorenni non consente la Costituzione parte civile all'udienza era comunque presente il fratello della vittima e l'avvocato della famiglia colpita dal grave lutto Giuseppe Giardina il giudice ha rinviato l'udienza al prossimo 6 aprile in quella data uno psicologo ai servizi sociali consegneranno una relazione sulla personalità del giovane imputato che si trova nel carcere minorile di Palermo dal 16 luglio scorso da quando cioè conficcò nella testa di Giardina un cacciavite quella sera l'aggressore venne arrestato dai carabinieri mentre la vittima fu ricoverata d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sciacca le sue condizioni si aggraveranno fino a farlo spirare 11 giorni dopo il movente del fatto di sangue sarebbe rappresentato dalla gelosia dell'imputato per la sua ex ragazza che avrebbe iniziato a frequentare Giardina il vedere insieme due seduti a un pub ha cecato il 17enne che ha chiamato fuori dal locale il suo antagonista per dei chiarimenti sfociati poi nel sangue il minore avrebbe utilizzato l'arma impropria prendendola dal suo scooter senza essere fermato da alcuni suoi compagni l'imputato compirà 18 anni tra due mesi ed è davvero improbabile che possa festeggiare la sua maggior età fuori dal carcere già una volta infatti il tribunale del riesame gli ha negato la scarcerazione secondo l'organo d'appello infatti il giovane potrebbe ripetere il reato il giudice monocratico della sezione penale del tribunale di Erigento Alessia Geraci ha condannato a un anno e tre mesi di reclusione Armando Locascio 66 anni originario di Porto Empedocle pensionato riconosciuto responsabile del reato di stalking si tratta della seconda condanna la prima era a due anni di reclusione implitta a Locascio per aver continuato a molestare la sua vicina di casa con pedinamenti, minacce, insulti e telefonate incidente sul lavoro questa mattina in Viale della Vittoria ad Agrigento due operai sono rimasti feriti mentre lavoravano la manutenzione dell'impianto di condizionamento sul tetto del palazzo della provincia accanto al liceo scientifico i due stavano probabilmente caricando il gas quando è scoppiata una bombola gli operai sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale con le ambulanze del 118 uno di loro rischia di perdere una mano un chilometro e mezzo di cavo elettrico è stato rubato da Contrada Bifara Favarotta a Campobello di Licata il furto ha creato danni e disagi per la gestione della discarica della dedolambiente che non potrà fino a quando la linea non verrà ripristinata prelevare il percolato indagano i carabinieri sono stati 51 a dicembre i controlli della Capitaneria di Porto Empedocle effettuati nella filiera della distribuzione e vendita dei prodotti ittici dalla grande distribuzione alla vendita al dettaglio e anche ai ristoranti particolare attenzione è stata posta nel controllo degli ambulanti che esercitano la vendita nei paesi dell'entroterra a carico dei quali sono state riscontrate numerose violazioni soprattutto sulla tracciabilità del prodotto ittico molti infatti erano sprovvisti di documenti attestanti la provenienza del prodotto commercializzato sono stati riscontrati 7 illeciti penali e 15 amministrativi sono stati effettuati 17 sequestri per un totale di 232 chili di pesce inoltre sono state sequestrate reti da strascico e reti da posta una donna di 31 anni che perseguita un uomo di 58 anni dal quale pretende un incontro è accaduto a Caltanissette dopo un primo ammonimento della questura la nissena incensurata è stata posta agli arresti domiciliari per stalking è stato il 58enne a chiamare i poliziotti dopo una scenata davanti il suo appartamento ieri notte l'indagata ha suonato ripetutamente al videocitofono rompendolo con una pietra in cemento è furto sventato ieri mattina nella zona industriale di Caltanissette due nisseni con precedenti penali Maurizio Emanuele Santoro di 21 anni e Salvatore Salvaggio di 28 anni avevano fatto eruzione in un'azienda dolciaria sequestrata per rubare un muletto già caricato sul loro carroattrezzi i due però sono stati bloccati dalla polizia che li ha arrestati in flagranza per furto sono state definite questa mattina nel corso di una riunione organizzata al comune di Canicattì le modalità del fermo dell'autotrasporto in Sicilia dal prossimo 16 gennaio per quattro giorni l'isola sarà completamente paralizzata dalla protesta che vedrà insieme oltre agli autotrasportatori i rappresentanti di tutte le categorie produttive della regione giorno 16 gennaio la Sicilia si bloccherà sono state decise quest'oggi le modalità di questo shop Sì dal 16 al 20 inizieremo questa protesta che questa volta vedrà tutte le piccole e medie imprese che vanno dagli artigiani, commercianti, dagli agricoltori, pastori uniti insieme senza nessun colore politico e nessun colore sindacale siamo qui solo per dire riguardo il nostro settore già non ce la facciamo più con il gasolio a un euro che percepiamo sono ancora tariffe del dopoguerra quindi non ce la possiamo più ci stiamo unendo, io anzi invito, grazie alla vostra emittente invito a tutti i commercianti ad unirsi a noi per una guerra comune di portare avanti una serie di cose una piattaforma da presentare al governo che riguarda un po' tutto riguarda la soppressione delle ferrovie le carenze infrastrutturali i rapporti con le banche non ne possiamo più rivoluzione culturale ma rivoluzione anche per portare benefici al popolo siciliano cercare di svegliarsi noi dal 2000 abbiamo sempre provato a smuovere gli animi confermi di categoria ma una sola categoria non è mai riuscita a scardinare questa cassaforte oggi c'è la volontà di tutti agricoltori, allevatori tutti, casalinghi, pensionati chiunque, uomini di buona volontà stiamo cercando di dare questa svolta e cambiare pagina e scrivere veramente una pagina nuova di storia per il popolo siciliano quello che viene chiesto alle categorie produttive siciliane in vista di questa mobilitazione di questa mattina ma l'abbiamo definita così perché ormai parlare dei problemi diventa superfluo lo sappiamo tutti cioè a che serve parlare dei problemi possiamo perdere ancora tempo a parlare dei problemi e allora diciamo una cosa diversa noi l'abbiamo detto l'abbiamo scritto vogliamo scrivere una pagina di storia la Sicilia deve mobilitarsi contro questi governi regionale e nazionale che ci stanno abbandonando ci saranno dei presidi un po' in tutta la Sicilia ci saranno presidi nei porti da parte degli autotrasportatori con il supporto dei ricoltori commercianti, pescatori e qualche categoria abbiamo mandato anche un messaggio agli studenti gli studenti diceva Ferro ieri per una volta scioperate per una cosa buona è una cosa buona aiutate i vostri genitori a cercare di farvi trovare un futuro migliore allora io sono disponibile fino a quando ci sono delle forme democratiche che possono essere portate avanti per chiedere i loro diritti anche perché capisco sia gli autotrasportatori che va a includere anche un discorso di agricoltura di commercio e di altre cose artigiana e quant'altro e sono convinto che la situazione in questo momento è molto delicata e molto seria perché non possono portare avanti le famiglie perché con l'aumento spasmonico che c'è stato a livello economico a livello di accisi a livello di gasolio e di benzina credo che hanno difficoltà anche a portare avanti le famiglie e sono convinto che tutti insieme dobbiamo essere vicini affinché di cosa si risolva nel migliore dei modi la situazione che si sta venendo a creare perché con il discorso anche della liberalizzazione a livello nazionale creeranno ancora una volta difficoltà a tutte quelle persone che in questo momento vogliono portare avanti le famiglie A poco più di un anno dalle elezioni regionali iniziano ad affiorare i primi nomi per il successore di Raffaele Lombardo nel centro-sinistra si fanno largo quelli di Beppe Lumia e Ivan Lobello ma è Pietro Grasso che potrebbe rappresentare la novità più dirompente nel 2013 anno delle elezioni siciliane tra l'altro Grasso non sarà più capo della procura nazionale antimafia Risponde mai dire mai il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso all'ipotesi di una sua candidatura alla presidenza della regione siciliana 42 anni in magistratura non sono pochi Pietro Grasso originario di Licata li ha vissuti senza incidenti ha cominciato come pretore a Barrafranca poi è andato a Palermo nella qualità di sostituto procuratore dove si è occupato delle indagini sulla pubblica amministrazione e sulla criminalità organizzata nel maxiprocesso è giudice a latere a fianco del presidente della corte Alfonso Giordano è stato estensore della sentenza che irrogò 19 ergastoli e oltre mille anni di reclusione consulente della commissione antimafia con Gerardo Chiaramonte e Luciano Violante nel 1991 viene nominato consigliere alla direzione affari penali del ministero di grazia e giustizia da Claudio Martelli che chiamò anche Giovanni Falcone tornerà a Palermo da procuratore della Repubblica dall'agosto del 1999 l'11 ottobre 2005 e infine è stato nominato procuratore nazionale antimafia subentrando a Pierluigi Vigna carica dalla quale decadrà nel 2013 anno delle elezioni regionali in Sicilia certamente farò qualcosa che mi gratifichi di utile ha detto che poi si voglia forzare il discorso è un'altra cosa ma io sono sempre possibilista Grasso non guarda un'eventuale esperienza politica sotto forma di schieramento con un partito cosa che è stranina a suo ruolo alla sua funzione e alla sua cultura pensando piuttosto a quella che ha definito una lista civica nazionale nel centro-sinistra si sono sussurrati finora due nomi Beppe Lumia ex presidente della commissione nazionale antimafia e Ivan Lobello presidente di Sicindustria ma Lumia potrebbe essere dilottato a Palermo se la candidatura a sindaco avrà spazio e Lobello è tutt'altro che organico al centro-sinistra è una donna palermitana separata con due figlie la prima a ricevere il microcredito previsto dalla legge regionale 11 del 2010 l'è stato consegnato dall'assessore regionale per l'economia Gaetano Armau e dal direttore generale di Unicredit Roberto Nicastro i particolari nelle interviste il microcredito è una grande opportunità per le famiglie in difficoltà finanziaria della Sicilia perché consente di ottenere finanziamenti fino a 6.000 euro con un forte abbattimento a suo interesse senza garanzie per accedere al microcredito occorrerà rivolgersi a una delle associazioni di volontariato le caritas le onlus iscritte all'apposito albo tenuto dalla regione sono delle opportunità importanti per le famiglie ma anche per le imprese vedremo anche con il microcredito per le imprese che consentono di evitare questo odioso tremendo fenomeno dell'usura che in Sicilia spesso vuol dire anche connivenza e riciclaggio per la mafia cercando di sopperire a quei bisogni che la famiglia siciliana può avere dal bisogno finanziario per la formazione per lo studio per esigenze sanitarie o per un trasloco ecco tutti i bisogni primari di quella fascia purtroppo crescente di famiglie siciliane che sono in difficoltà finanziarie la cosa che facciamo è quella di continuare ad essere in maniera molto radicata e profonda banca di territorio questo vuol dire per esempio rispetto a un progetto bellissimo come questo di microcredito destinato alle famiglie che nasce per merito l'iniziativa della regione essere non è un caso che sia Unicredit la banca di riferimento per renderla operativa per realizzarla per scaricare a terra perché appunto ci sono queste importanti dotazioni di circa 9 milioni di euro se ricordo bene e quindi oggi fortunatamente siamo proprio al primo momento concreto operativo è utile forse ricordare che come Unicredit ci siamo attivati in Sicilia sul fronte al microcredit anche attraverso il cosiddetto fondo Jeremy che è un fondo che abbiamo siamo attivati per attingere a questo fondo che è prodotto e costituito da Unione Europea in questo caso parliamo di 18 milioni di euro 9 milioni li mettiamo noi comuni credit 9 milioni li mette la Commissione Europea Unione Europea in questo caso invece destinato al mondo produttivo destinato al commercio destinato all'artigianato insomma in un momento in cui ovviamente c'è un grande tensione dal punto di vista diciamo di come opereranno le banche noi stessi stiamo facendo un importante aumento di capitale esattamente con l'obiettivo di continuare a svolgere il nostro ruolo di motore di supporto per il lancio economico l'iniziativa di oggi si sposa esattamente e si inquadra in questa strategia ed è stato sottoscritto a Palermo nella sede della Presidenza della Regione Siciliana il contratto di cessione del pacchetto di maggioranza di IRFIS da Unicredit alla Regione Siciliana oggi la Regione è divenuta quindi azionista unico con il 100% di IRFIS fin Sicilia l'intervista al Governatore Lombardo che ha parlato anche del microcredito credo che sia un'iniziativa importante per venire incontro a famiglie a piccolissime imprese che potranno accedere a questo come dire prestito d'onore a questo credito facilitato che consente di acquisire fino a 6.000 euro oggi credo che la prima operazione sia stata fatta a favore di una famiglia di una signora sola divorziata senza il marito che ha due figlie di cui una come dire diversamente abile e la finalità del prestito è orientata verso ad esempio in questo caso la possibilità di istruire di educare la figliola ecco potremmo credo concedere complessivamente perché l'investimento complessivo è di 12 milioni potremmo concedere questo microcredito si calcola 2.500 3.000 famiglie o piccoli piccolissimi imprenditori si tratta di un'iniziativa molto importante che realizziamo in piena sintonia e con la collaborazione di Unicredit con cui poi abbiamo sottoscritto come dire il protocollo l'accordo che porta alla creazione di IRFIS fin Sicilia cioè alla gestione del 76% delle azioni di IRFIS che erano di Unicredit la quale IRFIS diventa al 100% regionale la regione ha da ora la sua finanziaria regionale come ce l'ha la Lombardia la si chiama Fin Lombarda ce l'ha anche la Sicilia e sarà uno strumento trattandosi di una partecipata al 100% della regione al quale possiamo rivolgerci si tratta appunto di una società che ci consente di affidargli in aus tanti servizi che attualmente a costi sicuramente notevoli noi siamo portati costretti ad affidare all'esterno credo che si tratti di decine e decine di richieste saranno selezionate e poi ovviamente saranno selezionate dalla banca perché devono possedere dei requisiti vista la condizione economica e sociale del nostro territorio purtroppo saranno tantissime e nonostante i 12 milioni non basteranno avessimo e speriamo di avere la possibilità cerchiamo e contiamo di avere la possibilità per incrementare il fondo i tempi ci si assicura che i tempi saranno generissimi torniamo all'agrigento dove ieri pomeriggio il cda del lato idrico avrebbe dovuto discutere e approvare la nuova struttura tariffaria proposta da mancare il numero legale presente il 53% dei votanti a front piano delle nuove tariffe tutto rinviato quindi alla prossima riunione sono state ricevute questa mattina dal dirigente scolastico Giuseppe Parisi alcune mamme degli alunni della scuola elementare padre Gioacchino Lallomia di Canigatti che dal rientro dalle vacanze natalizie protestano per il funzionamento a singhiozzo dell'impianto di riscaldamento dell'istituto la soluzione tampone trovata dall'amministrazione comunale in attesa della sostituzione della caldaia che avverrà entro fine mese non soddisfa completamente i genitori che si sono detti pronti anche a sopportare i non comodissimi doppi turni con la sede centrale di via Pirandello quale rassicurazione vi ha dato il dirigente scolastico questa mattina intanto il dirigente scolastico ci ha ospitato il nostro ufficio dicendoci che è d'accordo con noi solamente che facendo una telefonata all'assessore ha detto che nella nostra scuola si raggiungono i gradi di 20-23 che non è reale quindi in alcune classi ci sono addirittura 12 gradi 13 gradi non è una cosa sostenibile hanno detto che devono aumentare le ore di accensione in questo modo si dovrebbe raggiungere una temperatura accettabile noi non vogliamo stare con i bambini a maniche corte all'interno ma non devono lavorare con i giubbotti quindi che si raggiungano un'attesa che arrivi questa caldaia che è stata già prenotata che sarà montata all'incirca fra 20 giorni un mese i tempi tecnici e lì non possiamo dire nulla dopodiché aspettiamo nell'attesa la soluzione potrebbe essere questa aumentare le ore di accensione si è ipotizzato anche la possibilità di effettuare dei doppi turni all'interno del clesso di via di Mandelli sì perché se non dovessero risolvere il problema in questo modo ci sposteremo faremo questo sacrificio comunque i bambini in queste condizioni non possono andare avanti a scuola e questo quanto dopo quasi 15 anni è stata ricostituita al comune di Licata la consulta per le pari opportunità l'iniziativa è dell'assessore Patrizia Urso che ha rivisto il regolamento e ieri pomeriggio ha incontrato varie associazioni sentiamo assessore dopo qualche anno di stop ritorna a Licata la consulta per le pari opportunità sì questa consulta purtroppo non si costituiva dal 1997 quindi abbiamo una consulta assolutamente datata che poi alla fine non è neanche riuscita a decollare per problemi di organizzazione solo che diciamo questo regolamento che si diciamo dava vita alla consulta era un regolamento assolutamente vetusto ormai troppo datato per cui abbiamo dovuto procedere prima ad una modifica del regolamento ecco perché diciamo che abbiamo fatto pure fatica a farla decollare ma oggi insomma con l'accordo di tutte le associazioni che ne fanno parte abbiamo messo un po' diciamo alcuni punti all'ordine del giorno che sono assolutamente nuovi rispetto al regolamento precedente la composizione è completamente nuova rispetto a quella precedente e oggi finalmente si istituisce ufficialmente la consulta pari opportunità quale bisogno sente questa amministrazione comunale priva di un consiglio comunale di comunicare con i cittadini e quindi con le associazioni questa esigenza sinceramente l'ho sentita sin dal momento in cui io ho assunto questa delega perché diciamo amministrare un assessorato pari opportunità senza avere l'organo che poi alla fine serve per poter comunicare per poter avere i collegamenti con la cittadinanza è assolutamente inutile quindi si parte dalla base l'istituzione e la consulta e poi si inizia a lavorare con il tessuto sociale e con la parte femminile di questa società che purtroppo per molto tempo è stata messa da parte quante risorse saranno destinate a questo organismo? quindi noi secondo il regolamento istituiremo i gruppi di lavoro ogni gruppo di lavoro avrà il compito di portare avanti un progetto questi progetti verranno individuati durante la prossima assemblea ufficiale e di concerto con tutte le associazioni che adesso ne fanno parte andremo ad individuare progetti che verranno messi in cantiere nell'immediato e un progetto voglio definirlo abbastanza ambizioso che è quello diciamo che più mi preme realizzare è quello dell'apertura di uno sportello antiviolenza che sul territorio di Licata non esiste è sempre l'assessore comunale di Licata Patrizia Urso accompagnata dai tecnici Maurizio Falzone e Giuseppe Vichari ha ricevuto ieri il dirigente scolastico Santino Lopresti insegnanti e alunni dell'istituto pedagogico Linares per affrontare le problematiche derivanti dall'avvenuta chiusura al traffico di via di Salvo nel quartiere San Paolo che conduce al plesso di via Pompei di sede della scuola l'amministrazione comunale allo scopo di garantire la continuità didattica ha assicurato alcuni interventi per eliminare i pericoli alla pubblica incolumità che hanno determinato la chiusura al transito sia veicolare che pedonale di via di Salvo l'assessore Urso ha assicurato che gli interventi individuati saranno posti in essere nel giro di pochi giorni e dopo tanti incontri discussioni promesse speranze quello che tutti i licatesi temevano è accaduto l'assessore alla sanità russo ha firmato il decreto con il quale viene sancita la chiusura di 28 punti nascita in Sicilia tra cui anche quello di Licata e il commento del referente per Licata di Forza Nuova Armando Antona l'assessore dice ha dichiarato che la chiusura dei punti nascita non è stata fatta per risparmiare ma per aumentare la sicurezza di partorienti e nascituri questa dichiarazione sembra fuori dalla realtà perché la corsa in macchina di almeno mezz'ora di una donna in procinto di partorire da Licata al più vicino punto nascita non ci sembra assolutamente scevra da pericoli è difficile tornare indietro conclude Antona ma questa ennesima bastonatura subita dalla città di Licata deve insegnare al popolo licatese che non si può continuare a dare fiducia a personaggi che stanno distruggendo la Sicilia e in questo caso la sanità di utilità sociale della nostra regione Vicepresidente del Consiglio Comunale ed Assessore grazie alla nuova legge regionale che consente la presenza in giunta di un numero di consiglieri non superiore alla metà degli assessori che la compongono parliamo di Franco Malluzzo che sostituirà Salvatore Alaimo nell'esecutivo Morello dopo aver prestato giuramento a Malluzzo sono state affidate le deleghe ai lavori pubblici urbanistica programmazione negoziata ambiente ecologia energia alternativa e sistema idrico il neoassessore figlio dell'ultimo sindaco socialista di Naro Giovanni Malluzzo venuto a mancare l'anno scorso e proprio al comune di Naro è stato avviato il processo di decertificazione il sindaco Pippo Morello è incaricato l'ufficio dei servizi informatici di accelerare le procedure per la stipula di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per poter accedere alle banche dati in loro possesso e per poter consentire l'accesso alle banche dati del comune di Naro Il sindaco di Naro Pippo Morello ha adottato le misure organizzative per concorrere efficacemente al processo di decertificazione della pubblica amministrazione dopo la normativa sulla semplificazione amministrativa approvata con la legge di stabilità la pubblica amministrazione non può più richiedere ai cittadini la produzione di certificati a corredo di istanze ma deve procurarsi direttamente i dati in possesso di altre amministrazioni in quest'ottica il sindaco Morello ha disposto che gli uffici si organizzino in modo tale da poter rispondere alle nuove esigenze imposte dal sistema di semplificazione amministrativa e ha pubblicato sul sito web ufficiale del comune di Naro le relative misure adottate tra queste spiccano quelle della posizione sui certificati rilasciati dal comune della dicitura il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi quest'ultima dicitura consente infatti la validità dei certificati esclusivamente nei rapporti tra privati il sindaco ha anche incaricato l'ufficio dei servizi informatici diretto da Salvatore Lauria di accelerare le procedure per la stipula di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per poter accedere alle banche date in loro possesso e per poter consentire l'accesso alle banche dati del comune di Naro in attesa della stipula di queste convenzioni previste peraltro dal codice dell'amministrazione digitale l'ufficio comunale dei servizi informatici supporterà gli altri uffici sia nella trasmissione dei dati richiesti da altre pubbliche amministrazioni sia nell'acquisizione dei dati da richiedere agli altri enti tutti gli uffici comunali comunque attiveranno i procedimenti amministrativi sulla base delle dichiarazioni sostitutive o delle autocertificazioni prodotte dai cittadini anche a Campobello di Licata Grande Sud si sta organizzando per realizzare a breve il coordinamento cittadino e quanto annuncia Giuseppe Fortino già consigliere comunale dal 1993 al 2006 e in seguito nominato assessore nella giunta municipale Campobellese fino al 2006 Fortino vicino alle posizioni del deputato regionale di Grande Sud Michele del partito si è tenuta ad agrigento la cerimonia di premiazione dei volontari a scopo sociale un attestato di riconoscimento è andato al canicattinese Vincenzo Misuraca della protezione civile di Canicattì impegnato in prima linea in numerose missioni di soccorso sono molto orgoglioso di questo riconoscimento e dell'ottima riuscita di questa iniziativa detto Misuraca anche nel 2012 la protezione civile canicattinese continuerà il suo impegno nell'organizzazione di iniziative di solidarietà e di crescita sociale con questa notizia ci congediamo dalla vostra attenzione arrivederci a presto Grazie a tutti.